Sono 188 i nuovi positivi al covid-19 in Toscana, emersi dagli oltre 8.300 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. L'età media è di 42 anni e per quanto riguarda gli stati clinici il 68% è risultato asintomatico e il 22% paucisintomatico. Sei casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, mentre uno soltanto è legato a un rientro dalla Calabria. Poco più di un caso su 3, il 37%, costituisce un contatto collegato a una precedente positività. Da febbraio sale dunque a 15.579 il numero dei contagiati nella regione, ma a soffrire ancora la malattia sono 3.962 persone. In 10.451 sono infatti guariti. Tra chi è ancora positivo, 125 sono ricoverati in ospedale, di cui 26 in terapia intensiva. In quarantena a casa invece, malati ma che non necessitano di cure ospedaliere, si trovano 3.837 persone dato in aumento. Non malate ma anche se isolate precauzionalmente e in sorveglianza attiva, sono in 43 in più rispetto al bollettino precedente. Non si registrano nuovi decessi. Quanto alla distribuzione geografica dei nuovi casi, gli aumenti maggiori sono in provincia di Prato, più 44, Firenze più 37 e Pisa più 33. Incrementi a doppia cifra anche nelle province di Arezzo, Lucca e Pistoia, mentre altrove la variazione è più contenuta.